Un giorno ho telegiornato una video della mia ultima coreografia e ho partito nella rete. Un convento del XVII secolo che accoglie gli artisti per creare le loro opere. E allora ho pensato di mostrare questo lavoro che è nato da una domanda fondamentale. Che cosa significa oggi essere umani nella modernità? Siamo immersi in un universo tecnologico e a volte dimentichiamo cosa significa l'umanità, il nostro senso profondo degli esseri umani. E allora mi sono chiesta nella mia storia lavorativa quali erano state le esperienze più forti che mi avevano marcato. Racconto quindi quattro storie molto significative per me attraverso la danza e attraverso anche il linguaggio della musica e dei costumi. Quindi a partire dalle ore 10 qual è esattamente l'indirizzo del sito? www.patrizialosciuto.com Andate direttamente lì e vedrete la performance. Perché tutto questo il 14 febbraio? Non è stato un caso ma visto che parlavo del senso di umanità e allora noi a volte dimentichiamo il senso profondo del bene che è in ognuno di noi innato. Grazie. 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 Grazie.